L'obiettivo è quello di far erogare le tue mensilità ai lavoratori, poi pare che ci sono problemi tecnici per quanto concerne un istituto di credito al quale questa azienda si è rivolta e non sappiamo se c'è termino di contratto o quant'altro, per cui l'aslo certo è che sta erogando. Quindi stiamo qua per la chiarificazione, perché giustamente i lavoratori sono sempre stati parte di leggende nel processo aziendale, hanno aiutato l'azienda, abbiamo attraversato quel grave momento, è rimasto tale, dei licenziamenti e quindi praticamente stiamo al punto di inizio, si è ritornato a capo, questa è la verità. Per cui dobbiamo assolutamente sapere cosa sta avvenendo. La proprietà non ci ha mai detto chiaramente qual è la sua intenzione, perché abbiamo saputo per altre vie di concordato fallimentare e quant'altro, però non ci hanno mai reso protagonisti al processo che è in atto, quindi chiederemo anche di questo stamattina.